Lecce-Inter 1-2 Lukaku Danfries Cessaio L'Inter passa al secondo minuto grazie a un gol concretizzato da Lukaku Cinciscando Brovic avendo un'opportunità per raddoppiare nella ripresa in Lecce pareggia con Cessai al 48esimo minuto con un Lecce che potrebbe raddoppiare con un'occasione avuta grande occasione del Lecce su punizione parato da Andarmic con l'Inter vicinissima al raddoppio parato dal portiere del Lecce con Varella che tira le stelle con un palo secco di Danfries con ancora un'altra occasione del Lecce per segnare con l'Inter un po' in affanno all'Orlando un gol a Lukaku con un fallo di Lukaku con porta stregata con numerosi gol sprecati dall'Inter con un minuto al termine con quattro minuti di recupero con l'ultimo secondo nel segnare l'Inter passa 1-2 grazie a gol di Dunfries terminando la partita 1-2 se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale campanella notifica e un commento ciao